Ciao ragazzi. Bentornata. Bentornata Francesca, sei riduce da una nottata importante, no? Mi viene da dire. Da una giornata importante in realtà, perché poi mi sono spostata molto ieri, ho fatto Palm Beach Miami, che comunque sono due ore di distanza. Poi in realtà volevo tornare a Palm Beach per ascoltare il discorso di Trump quando ho capito che aveva vinto, però sarei stata sul treno quando lui ha parlato, quindi a quel punto ho detto, beh, resto qui un attimo e poi penso di andare più tardi. Allora, ovviamente tu hai deciso, prendo parto, perché comunque affrontare queste elezioni 2024 che vedevano da una parte Trump, dall'altra parte Kamala Harris, dopo tutto quello che noi già ci siamo raccontati in questi mesi, settimane, in questi giorni, anche in queste ore, è stato bello impegnativo. Tu, ovviamente essendo stata lì, avendo anche intervistato gli americani, i veri americani del posto, cosa hai sentito, nel senso cosa hai percepito già prima dell'esito finale di queste elezioni? Allora, prima di tutto voglio dire che quest'ultima frase che hai detto, i veri americani del posto. In realtà qui, i veri americani in Florida sono molto pochi, nel senso che anche Miami è una città fatta da migranti latini, infatti la chiamano la capitale latina. Ed è proprio questo il dato interessante. Cioè, il dato interessante è che ieri sera, per esempio, mi trovavo a Versailles, a Cailleo, che è il quartiere cubano di Miami, e lì tutti hanno votato Trump. Tantissime minoranze, gli haitiani, votano Trump, ce l'hanno a morte con l'amministrazione Biden, ce l'hanno a morte con Kamala Harris. E quindi questi sono degli elementi molto interessanti. Poi, chiaramente, a West Palm Beach, Mar-a-Lago e la casa di Trump, c'è un altro tipo di elettorato bianco, benestante, diverso. Però il fatto che i latini votino Trump, secondo me è molto interessante, dal momento che lui ha promesso non tolleranza zero, come ha fatto nel 2016, ma una deportazione di massa, che significa che tutti i migranti illegali, a prescindere che abbiano la filina penale sporca o pulita, verranno rimpatriati, verranno cacciati dal paese. Perché votano Trump? È un dato interessante, perché alcuni dicono è per l'economia, perché Trump darà il lavoro, c'è un po' questa narrazione. Una narrazione che è giusta, sbagliata, non lo so, però è molto interessante che molti all'interno di queste comunità non parlano neanche l'inglese. Cioè è anche interessante capire questi come hanno fatto alcuni di loro ad ottenere la cittadinanza, perché teoricamente qui per poter ottenere la cittadinanza devi fare un test d'inglese. E quindi questo sicuramente è molto interessante. Ho intervistato tante persone appunto in questi giorni, ho notato che i più giovani sono sicuramente più predisposti a parlare rispetto agli adulti, perché devo dire c'era anche un po' un clima negli scorsi giorni a Miami, soprattutto nei quartieri più benestanti tipo Brickell, che è quello dove mi trovo adesso. Non vogliono parlare, non volevano parlare delle elezioni, non volevano dire la loro preferenza. I giovani sono più aperti in questo senso, la maggior parte comunque votano, hanno votato Kamala Harris, però evidentemente non è bastato. E poi i temi più forti sono appunto qui l'immigrazione, dove i migranti o le seconde generazioni di migranti non vogliono che entrino altri migranti latini. E poi l'altro tema è l'economia. L'economia per tutti, l'economia anche per i giovani. Cioè la prima cosa anche alla ragazza afroamericana femminista, qual è la cosa più importante per te? Lei ha risposto l'economia prima di tutto. Quindi anche questo è un dato prima dei diritti civili, prima della guerra in Ucraina e Medio Oriente. Beh, questo è ovviamente interessante e fa un po' il pari con quello che dicevamo all'inizio. Cioè, oramai probabilmente la questione dei diritti, la questione anche dell'avvicinanza metaforica, no? Parliamo prima degli arabi, Francesca, con magari la popolazione di Gaza. Così in realtà viene un pochettino sfumata dal bisogno a livello economico che uno ha nella vita di tutti i giorni. Il lavoro, le misure protezionistiche che presumibilmente sono atte a tutelare proprio la propria economia interna, piuttosto che dare uno sguardo esterno. Cosa che poi prevalentemente abbiamo anche visto nel primo quadriennio di Trump. Oggi inizia, tra poco inizierà il secondo quadriennio, ma il primo l'abbiamo già visto. Ed effettivamente misure, i dazzi, il mancato magari appoggio alla COP21, sono tutte misure che hanno avuto l'obiettivo di fare quadrato intorno ai Stati Uniti a livello interno. Proprio su economia, persone, scarsa magari sensibilità a quelli che sono diritti magari un po' più eterei, se vogliamo, o comunque poco concreti da un certo punto di vista, anche agli endorsement, perché ne stavamo parlando prima, e le varie Taylor Swift, Beyoncé, Lady Gaga, Bruce Prinsing, pare che non abbiano sortito grandissimo effetto, ma chi invece è salito su un carro che sarebbe arrivato al traguardo per primo invece è stato Elon Musk. So che abbiamo visto che ne hai parlato anche in siti social recentemente. Beh, lì, anche in base al discorso che ha fatto Trump appena arrivato all'esito elettorale, insomma si sta consumando una fusione, un'unione che potrebbe veramente lanciare Musk e Starlink, non lo so, nell'olimpo economico americano, è così. Intanto è interessante guardare che oggi chi ha investito in Tesla in questi anni sta brindando, cioè le azioni sono salite a picco e c'è questo dato, nel senso parlavo con questo ragazzo italiano-americano e mi diceva io voto Trump e non voto Trump perché sono cristiano o perché non sono cristiano, non voto Trump perché sono contro l'aborto, perché io nel mio Stato qui in Florida ho votato per garantire maggiore accesso all'aborto, io però voto Trump perché devo pensare a me stesso. Io in questi anni, in questi ultimi dieci anni ho investito tantissimo in Tesla e oggi sono felice e sono sicuro che con Trump l'economia andrà meglio, sono sicuro che un approccio più protezionistico possa essere più funzionale per noi. Quindi c'è anche un po' un approccio diciamo più cinico negli Stati Uniti. Noi cerchiamo sempre di fare dei paragoni tra gli europei e gli americani, tra gli italiani e gli americani, che è una cosa normale, nel senso ci viene spontaneo, vogliamo immedesimarci, però siamo una popolazione estremamente diversa. Cioè America First vale con Trump come valeva forse con Biden e Biden però per loro ha un po' diciamo rotto questo patto di fiducia anche per i contesti che si è trovato a dover gestire come le guerre, come la guerra in Ucraina, come la guerra in Medio Oriente. Quindi c'è stata una forte attenzione alla politica estera in questi anni. L'altro dato però secondo me molto interessante che dobbiamo dire, su questo io ho dibattuto tanto e sono molto convinta di quello che ho detto in questi mesi. Comunque un impatto fortissimo ce l'hanno avuto le persone, i democratici che non hanno votato. In Michigan ha vinto Trump, è un dato molto importante, perché è vero che è uno swing state, ma è uno swing state che comunque è sempre stato più democratico che repubblicano. Quindi sicuramente se la questione medio orientale non ha fatto il gioco di Trump, nel senso che non ha spostato il suo elettorato, però ha danneggiato tantissimo Kamala Harris, io di questo sono sicura e quindi ha sicuramente avuto un impatto. Poi ci sono tante cose, appunto c'è stato Elon Musk che distribuiva milioni di dollari in Pennsylvania, quindi ci sono tanti elementi, però sicuramente i democratici che non hanno votato, secondo me hanno fatto la differenza. Francesca, arriva una domanda da casa, intanto ti fanno i complimenti perché finalmente una giornalista che parla andando nei posti a confrontarsi con la gente proprio del posto. E noi prendiamo e portiamo a casa. Tra l'altro il nome potrebbe far capire Pedro Sombrero, quindi quei veri americani tra virgolette di cui parla Francesca. Ma volevo chiederti, quindi la crescita economica di Biden non ha riguardato i ceti popolari? Cioè quindi il ceto medio? Allora il fatto è questo, Ci sono i dati effettivi, ovvero il fatto che Biden teoricamente è un fatto, Biden ha portato l'inflazione ai minimi storici rispetto al 2020. E allora appunto ci si chiede, ma com'è possibile che ci sia questa percezione dell'economia? Il fatto è che ci sono dei dati economici, quindi c'è l'inflazione, però dall'altra parte il costo degli alimenti è aumentato, se tu vuoi fare la spesa tu non spendi meno di 8 euro per comprarti un pezzo di formaggio, che è un'assurdità. Il costo di tutto è aumentato, comprarsi la prima casa è diventato difficile negli Stati Uniti, che sono quelle cose che per gli americani, ma non soltanto il ceto popolare, ma anche il ceto medio, la media borghesia, se possiamo definirla ancora così nel 2024, per tutte queste fasce della popolazione hanno un impatto molto forte. Quindi in realtà ci sono dei dati, però poi c'è la percezione della popolazione. E la maggior parte, o perlomeno questo è quello che hanno dimostrato i voti questa notte, la maggior parte degli americani pensa evidentemente che Trump possa essere positivo, possa portare un cambiamento da un punto di vista economico. non lo so, non mi occupo specificamente di economia, non so che cosa succederà, probabilmente non lo sanno neanche gli economisti in questo momento, staremo a vedere. Io ti faccio una domanda personale che ho già posto ad altri ospiti, Francesca, e mi stuzzica sempre l'idea, ma forse mi metto anche un po' in difficoltà, ma chi se ne frega. Sta a voi essere... Quanto ti piace questa cosa? Sono bravo, sono bravo. Comunque volevo ringraziare il ragazzo che mi ha fatto la domanda prima, Pedro, grazie. Pedro, sono vero. Infatti il dissing tra Alessandra e Pedro è arrivata? No, no, poi... Questo lo lasciamo, sì, sì. Pedro, non ti mettere contro Alessandra perché... No, 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 infatti ti hai messo a ridere... Io me ne guardo bene tutti i giorni. No, da parte questo, ti volevo chiedere, ovviamente, insomma, seguendo da vicino, adesso da vicinissimo, però immagino anche quando tu sei in Italia, quello che accade negli Stati Uniti, io ti volevo chiedere, secondo te il racconto che ne è stato fatto da parte di corrispondenti editorialisti, anche di grandissime testate, è stato un racconto in questa campagna elettorale che è obiettivamente veritiero o comunque si sono un po' aggregati attorno a quei sondaggi, a quel mainstream che è un po', vuol dire, ha dovuto abbassare le orecchie verso l'epilogo. Cioè, abbiamo vissuto tante volte una campagna elettorale in cui nel momento in cui Kamala Harris è diventata la candidata per i democratici, insomma, è stata bella sospinta, non solamente dagli artisti, come dicevamo prima, però anche da gran parte della stampa, sembrava veramente il nuovo che dovesse avanzare. Io dico sempre che è New York Times che ha mandato via Biden, non è Biden che se ne è andato. Esatto, bravissima. Però, per quello che sono i nostri corrispondenti, le nostre voci dall'America, l'idea che te ne sei fatta, anche perché io sottolineo sempre una dinamica, magari poi ne parliamo anche con il nostro prossimo ospite, è una dinamica che ovviamente oggigiorno i giornalisti, se vogliono essere al top anche del seguito, ovviamente tramite social su tutti, ma anche ospitate, obiettivamente diventano molto opinionisti e meno giornalisti. Allora ti chiedo, nella tua personalissima lettura, c'è stato un po' questo essere un po' più personaggio da parte di certe firme e meno effettivamente raccontare quello che accadeva nella cittadinanza americana, oppure sostanzialmente hai visto che il racconto effettivamente è rimasto fedele e poi dopo si è verificato quello che doveva verificarsi, anche in base a quelle che sono le tue letture e le tue visioni. Ma allora, diciamo che secondo me il tema non è tanto, cioè sicuramente è vero che con i social tendiamo tutti a dare le nostre opinioni, cioè perché funziona così, poi più polarizzi più a mente il tuo seguito, cioè è così, possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, possiamo dire che no, possiamo fare il giornalismo perfetto sui social, e possiamo anche approfondire fino a un certo punto. Io li uso tanto, mi diverto sicuramente, però poi so che nella vita voglio fare principalmente altro. Detto questo, io quello che credo è che, non voglio fare una generalizzazione ovviamente, però c'è un po' un tifo, cioè nel senso c'è stato un po' un tifo, e fare, o comunque abbiamo raccontato un po' quello che avremmo voluto che accadesse, e non ci siamo resi conto di determinati, ma non adesso, cioè negli ultimi due anni secondo me, io onestamente, ma non lo dico per fare la fenomena, lo dico perché io ho scritto la mia tesi di laurea sul caso Cambridge Analytica, quindi parlando di Trump già da allora, quindi da tanti anni che sono abbastanza fissata con la figura di Donald Trump, la trovo controversa e interessante. Quello che penso è che si tenda spesso a voler raccontare le cose come le vorremmo, senza vedere però determinati dettagli, cioè per me la vittoria di Trump oggi non è una sorpresa, non capisco perché ci stiamo ancora sorprendendo sinceramente, cioè dobbiamo raccontare le cose come stanno, dobbiamo raccontare gli umori che effettivamente ci sono nel paese, anche se non ci piacciono, cioè non vuol dire stare dalla parte di Trump, significa che noi stiamo raccontando i fatti così per come sono, cioè c'è questo dato, i latini appunto, molti latini vogliono votare Trump, non l'ho sentito a dire tante volte questa cosa, in questi mesi sinceramente. Certo, assolutamente, sono d'accordo in gran parte con te Francesca, effettivamente si porta più per un dovere, un dovere, un voler polarizzare il proprio seguito e poi anche per degli indirizzi evidentemente un po' politici delle varie testate su cui poi ci si esprime, obiettivamente il racconto, quello però concreto, reale, a volte viene meno, e magari questo può essere lo spunto per accogliere poi il nostro prossimo. Assolutamente. Io direi che Francesca magari si va un attimino a riposare. Un ritardo riposo. E basta, però vi ringrazio. Ma oggi Fra, quale sarà la tua giornata? No, allora adesso ormai sono sveglia, carica, quindi vorrei tornare a Palm Beach, perché è interessante, e vediamo un po'. Ci sono tante zone qui dove ci sono dei festeggiamenti, quindi è interessante vedere che cosa succede. Infatti poi è anche interessante questa cosa, cioè non è che in Italia, se qualcuno vince le elezioni la gente scende in piazza, sembrava che il Milan o l'Inter avesse vinto il derby ieri sera, praticamente. Il Milan ieri sera l'ha fatta grossa. Alcuni Milanisti sa che erano lì per festeggiare. Ecco. Qualcuno l'ha fatto. Quindi ti auguriamo un buon lavoro, una buona giornata, e ovviamente ti seguiremo anche sui tuoi social per capire qual è veramente il sentiment degli americani oggi. Grazie Francesca. Ciao, grazie. Ciao a te, ciao ciao.